... Donna... Monsignore... ...e Pietro Damiani. No, no maestà è un uomo con gli clunichi accompatti l'abbate. E Pietro Damiani, inutile padre guardare la duchessa, vi giuro madonna che il mio animo è cangiato verso vostro figlio, confesso che se lui non fosse venuto a impedirmelo in nome di Papa Alessandro, certo l'avrei ripudiata sincera, c'era che si prestava a favorire il ripudio il vescovo di Magonza per 120 poteri. È proprio un omaggio all'arte del teatro, lo ha detto proprio lui in un'altra intervista che ha fatto, perché è in questo spettacolo non solo pirandello, teatro nel teatro, ma teatro nel teatro nel teatro, quindi all'ennesima potenza, perché vedrete che in scena ci sono come dei camerini, per cui gli attori sono attori di oggi, che si truccano da attori degli anni venti, che poi si travestano da attori del medioevo, per cui è l'apoteosi del teatro nel teatro. Dico la verità, eh, dico la verità, questa di Parda Benedettino non me l'hai mai aspettata! Oh, ecco, piano! Oh, dico, sono pazziglie che costano un fior di quattrini! Eh, ma anche tante altre pazziglie! Eh, quando per secondarle si ha a disposizione un patrimonio! Sì signore, e abbiamo un intero cartaroba di là, si spende molto! Ah, si spende molto! Ah, oh, magnifica, magnifica, veramente real! No, 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 levatevi, levatevi, siete impossibili! Se fate un proggione vestito! Eh, guardate il dottore! Eh, vabbè, pazienza! Pirandello ha avuto un caso di pazzia molto grave in famiglia, la moglie, che già quando i figli erano piccoli ha cominciato a dare, ahimè, segni di squilibrio, ed era una pazzia che allora, forse non conoscendo la psichiatria, la scienza, i mezzi di oggi veniva curata, rinchiudendo le persone in un manicomio, la moglie Pirandello è stata in un manicomio per 39 anni, fino al giorno della sua morte, fra l'altro, casa di Pirandello a Roma è vicino a casa mia e il palazzo dove c'era il suo manicomio è sulla stessa strada dove abito io, quindi facciamo un bellissimo triangolo della pazzia, io, Pirandello e sua moglie. Ma dico, se si nasce e si muore, nascere, buon signore, voi l'avete voluto, io no. E tra l'un caso e l'altro, indipendenti entrambi dalla nostra volontà, quante cose avvengono che tutti quanti vorremmo non avvenissero e a cui a malincuore ci rassegniamo. Sì, purtroppo. Questo saluto, per Dio, domani a Tressanone, 27 mescovi tedeschi e rombardi, firmeranno con me la destituzione di Papa, Regario VII, non pontefice, ma monaco falso! Maesta! 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 Ma in nome di Dio! Ma date quel che dite! Monsignore, monsignore, qui insieme alla duchessa per intercedere, in vostro favore. Sì, sì, siamo qui per intercedere. Oh, perdona, 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 monsignore, perdona, madonna. Ma sento, sento, mi giuro, sento sopra di me tutto il peso dell'anatema. Beh, in uomo c'è, nell'attore molto, perché ci ho mangiato, ci ho vissuto con Pirandello per quasi vent'anni della mia carriera, ho quasi fatto solamente Pirandello. Sebastiano Uomo c'è sicuramente la conoscenza, un aiuto a una maggiore conoscenza del prossimo che incontro, ad avere quella lente di ingrandimento che ha Pirandello nel conoscere gli altri, nell'entrare nell'animo degli altri. Insomma, la psicologia che Pirandello mette in tutte le sue opere mi aiuta a conoscere meglio il prossimo e da qualcuno di questi guardarmi bene. Benitente, è così il resto, vi giuro che ci resto finché egli non mi abbia ricevuto, ma poi, poi dopo la regola della scomunica, poi dovreste ignorarmi questo dal papa che non può di staccarmi da là e di farmela vivere tutta questa mia povera vita da cui sono escluso. non si può avere sempre ventisei anni, madonna, ecco, ecco solo questo, sono, sono nelle vostre madri, madonna, buon signore.